Conoscenza e tecnologia nei settori delle energie rinnovabili, dei servizi e delle produzioni agricole, traghettate da Perugia a Mitrovica e in Kosovo per aiutare la città balcanica nella ricostruzione postbellica. Ecco in sintesi il progetto realizzato da Casa Artigiani Provinciale di Perugia, che ha condotto una delegazione kosovara, il neosindaco di Mitrovica, Achim Bakhtiri, in visita in città e al cospetto del sindaco, Vladimiro Boccali. Un incontro che è giunto a circa cinque mesi da quello che ha visto sbarcare la delegazione di artigiani italiani nel paese balcanico. Abbiamo visto che ci sono ampie possibilità di manovra delle nostre aziende. Quindi abbiamo iniziato un percorso di quelle che saranno le attività che potrebbero essere svolte nel paese di Mitrovica. Al tavolo nel Palazzo Comunale di Perugia, con il sindaco Boccali, anche i rappresentanti delle otto aziende Umbre che prenderanno parte allo scambio culturale. Archiplan Progetti, Tetra Engineering, New Fund, IME Impianti Elettrici, HGV, Falpe Electric, Green Service, Paolo Raspa, Studio di Architettura. Io vengo dal comune di Mitrovica, il comune più problematica in Kosovo. Per me vuol dire comunque molto questa visita, questa collaborazione col sindaco. Cerchiamo assieme di risolvere, che ci aiutano, di risolvere comunque i problemi sia politici che economici. Sappiamo esattamente che per entrare in Europa ci occorrono le certe regole, certe sapienze, insomma, e abbiamo bisogno comunque di avere comunque queste esperienze vostre. E' un'esperienza che investiamo in questo caso. Bisogna dare atto alla capacità di un gruppo di professionisti, di imprese, di aver stipulato rapporti in quel paese a livello istituzionale. Io penso che da livelli locali, dal sistema dell'autonomia locale, possa partire un sistema di relazioni internazionali che ci aiuta. Bisogna dare atto alla capacità di un sistema di relazioni internazionali che ci aiuta.